Io non voglio cercarmi negli altri, non mi serve tranquillo lo stesso Questa vita che viene da dentro ma lo sa che c'è Asia, quando è stato scritto il brano e che cosa racconta? Allora, lo faccio per me, è stato scritto nell'estate del 2021 racconta di un percorso di crescita personale e tratta il tema del giudizio della gente Io ero una persona che era veramente influenzata da ciò che la gente mi diceva e adesso quello che mi dicono rimane un'opinione, non rimane una legge assoluta e questa per me è una grande vittoria Ti ha curato il videoclip e dove è stato girato? Il videoclip è stato prodotto dalla Magma Musica Esplosiva a cura della regia di Clelia Parisi è stato girato tra Fano e la Toscana in particolare a Peccioli dove vedrete queste statue giganti che a parere mio sono veramente fantastiche Dove potrei essere ascoltato? Potrei essere ascoltato su tutti i digital stores e su YouTube, Spotify, iTunes, Instagram, ovunque Hai già in mente altri progetti? Assolutamente sì, sto lavorando tanto sto già scrivendo altri pezzi ho iniziato una collaborazione con la Red & Blue un'agenzia di promozione e piano piano sto pensando anche chissà, a propormi a Sanremo non si sa mai senza di te lo faccio per me non si sa mai